ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi andremo a parlare di arrival non so se già la conosci è una start up nata da qualche anno in gran bretagna loro sin dall'inizio si sono occupati di automotiva elettrica hanno creato un primo prototipo di furgone o intelligente modulare molto 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 diciamo flessibile e personalizzabile in base alla richiesta del cliente finale allora arrival negli ultimi anni si sta espandendo in una maniera colossale anche perché anche perché i suoi progetti hanno fatto colpo su grossissimi produttori di auto prendi come kia e hyundai hanno investito nella start up oltre 90 milioni di dollari oltre quello o anche ups il corriere ha investito molti soldi prenotando 10.000 unità per la prima diciamo tranche poi ci sarà la seconda entro il 2020 2024 di altri 10.000 unità ma cosa fa arrival arrival fa questo o furgone che vedi in video come vedi è carino compatto fatto anche bene nella qualità è ancora di più studiato ingegnerizzato a stretto contatto con ups perciò loro hanno collaborato con ups e hanno creato un mezzo diciamo su misura per loro arrival stessa dice che entro qualche anno i loro mezzi conquisteranno l'america e l'europa perché perché sanno che in questo momento sono non dico i soli ma quasi ti hanno puntato questo settore ma io ti dico invece che se segui il canale avrai visto qualche giorno fa un video su volkswagen furgoncino elettrico appunto anche per i corrieri o anche per officina su ruote e quello diciamo che può essere una delle concorrenze in questo momento che ha arrival andiamo a vedere nel concreto alcuni dati che sono riuscito a trovare su questo furgoncino offriranno un'autonomia di oltre 150 miglia che convertiti in chilometri sono circa 240 250 chilometri hanno una struttura molto leggera per quanto riguarda la ricarica dei furgoni si ricaricheranno nelle basi ups questi veicoli gestiti dalla flotta saranno in grado di ricaricarsi di notte nelle loro basi domestiche invece di utilizzare le stazioni di ricarica pubbliche e renderanno disponibili le corse durante il giorno in un'area geografica definita facilitando la manutenzione delle aziende proprietarie perciò in poche parole ups non vuole sfruttare basi di ricariche esterne a quelle dei loro magazzini ma ha definito già in partenza che le ricariche verranno fatte di notte e poi di giorno i veicoli andranno diciamo a consegnare quando scarichi ritorneranno diciamo in magazzino per eventualmente non so partire con un altro carico e anche per questo devono andarne a prendere qualcuno in più per fare appunto il cambio del furgone può montare un motore o doppio motore ci saranno ovviamente modularità sia per il pacco batterie che personalizzazione nell'allestimento interno più anche la scelta di un motore o due motori tutto va in base alla richiesta del cliente specifico ups in teoria gli ha fatti tutti simili come vedi anche il colore della carrozzeria le rifiniture il logo tutto diciamo studiato per diciamo sposarsi bene con il brand con l'azienda ups ups ha fatto questo perché perché da calcoli fatti si stimerà un risparmio di oltre il 50% per la gestione per il mantenimento dei furgoni cioè un risparmio sui padroni dei furgoni chi oggi fa le consegne con i furgoni diesel un domani con questi avrà il 50% di costi in meno in più ovviamente avranno un prezzo di favore perché avendo investito anticipatamente avendo prenotato anticipatamente 10.000 pezzi a rival ovviamente gli ha fatto un prezzo diciamo concorrenziale e ancora di più avranno il risparmio nell'acquisto del mezzo e infatti non si hanno dati per quanto riguarda il prezzo non si hanno dati per quanto riguarda la potenza del motore ma credo non meno di 200 cavalli a motore niente ragazzi se il video ti è piaciuto un mi piace questo è bellino un commento iscriviti al canale clicca sulla campanella fammi sapere cosa te ne pare il furgoncino di l'arrival e in più fammi sapere sotto cosa preferisci quello woswagen che ti lascio sopra o questo arrival ciao e al prossimo video